Tre soldati olandesi sono stati catturati da uomini del colonnello Gheddafi durante una delle operazioni di evacuazione di civili in Libia. Il fatto è avvenuto domenica nel nord del paese, a Sirte, ma la notizia è stata diffusa solo oggi da un quotidiano olandese per motivi di sicurezza. I soldati, fucilieri della marina, sono stati attaccati dopo l'atterraggio dell'elicottero su cui si trovavano tre civili, un europeo, la cui nazionalità non è stata resa nota, e due olandesi. Questi ultimi, dopo essere stati riportati all'ambasciata dei Paesi Bassi, hanno poi potuto lasciare la Libia.